Una giornata speciale per la comunità di Larino e per quanti hanno raggiunto il centro frentano anche da altri paesi del territorio. La peregrinazio dell'abito delle stimmate di Padre Pio ha fatto tappa al convento dei frati Cappuccini. In tanti hanno accolto l'alleriquia del santo di Pietrelcina in un contesto di preghiera e profonda devozione. Il saio è stato portato dai frati della pastorale giovanile e vocazionale che da diverso tempo girano non solo i conventi ma anche diversi luoghi di vita quotidiana per portare il messaggio e l'esempio di San Pio. Per certi versi noi siamo coscienti che quello che accadde la mattina del 20 settembre del 18, la mattina in cui Padre Pio ha ricevuto le stimmate, è qualcosa che in qualche modo Padre Pio rivive ancora vista la sua popolarità e l'amore che il popolo di Dio ha per lui e quindi in qualche modo quella esperienza continua ad essere presente, viva, proprio in tutti i luoghi che in qualche modo questo abito ha visitato, questo abito appunto quello che lui indossava quella mattina. E ci ricorda queste due verità di fondo, che Padre Pio ha tanto amato Dio, così come lo ha amato San Francesco, anche lui stigmatizzato il suo fondatore, il fondatore dell'ordine al quale lui è aderito, e ha amato tantissimo l'umanità, in particolare l'umanità sofferente. Una figura quella di un santo così venerato e richiamo di pellegrini da ogni parte del mondo a San Giovanni Rotondo che accompagna il cammino di persone di ogni età. La peregrinazio tra le varie tappe ha raggiunto anche il campo di concentramento di Auschwitz in Polonia per ricordare quanto è avvenuto durante la Seconda Guerra Mondiale e diffondere sentimenti di umanità e pace tra i popoli rispetto a nuove divisioni e conflitti. Il nostro peregrinare non ha semplicemente toccato i conventi, ma l'abito ci ha condotti anche in luoghi segnati dalla sofferenza, come gli ospedali, le carceri, e in modo particolare anche luoghi vissuti e abitati dai giovani. Infatti abbiamo incontrato tantissimi giovani proprio nelle scuole dove abbiamo avuto modo di presentare una figura di Padre Pio non solo dal punto di vista devozionale, ma anche Padre Pio, non dobbiamo dimenticare, è stato un personaggio storico vissuto proprio a cavallo anche delle due guerre. Padre Pio ha vissuto la prima e la seconda guerra mondiale. Lui riceve le stimmate proprio nel 1918, anno in cui termina la prima guerra mondiale. Quindi è stato anche interessante vedere il modo con il quale questo giovane frate francescano cappuccino ha vissuto proprio l'impatto della guerra e il modo con il quale anche lui ha reagito attraverso proprio anche la sua totale donazione di sé.